Buongiorno, iniziamo perché oggi si affrontano addirittura tre autori non semplici, lo farà René Capovin che conoscete molto molto bene, essendo stato oltre a me sostanzialmente organizzatori di questo ciclo di incontri, René ha il merito di avere tradotto, è giusto, il libro di Dessertot di cui parlerà e che è un libro veramente fondamentale per chi vuol cercare di capire qualcosa di questo evento così distrattato sinora dalla storiografia, poi in altri campi no. Inizia René, siamo d'accordo che io aggiungerò alcune notizie su uno dei tre autori, poi vedremo. Ci dobbiamo affrontare tre autori ma anche le bizze del PC. Allora, la figura che vedete è il meno noto dei tre autori che affronteremo appunto, si chiama Michel Dessertot, gli altri due autori sono Pierre Bourdieu e Cornelius Castoriadis. Allora, l'accento intanto più che su uno dei tre autori andrebbe messo sulla seconda parte del titolo, cioè interpretazioni francesi del 68. L'idea che ha avuto Pierpaolo è stata questa di riunire in una lezione degli autori significativi per il 68 francese che non era potuti essere oggetto di presentazioni autonome. Dato che si tratta di tre autori complessi anche molto differenti per quanto riguarda il profilo biografico e anche per lo status delle opere rispettive, ho pensato di trattarli adottando due elementi qualificanti. Il primo è di trattarli come autori francesi, cioè di cercare di inserirli all'interno della storia della Francia degli anni 60-70. La seconda decisione è stata quella di non porli sullo stesso piano. Cioè io darò una priorità a Dessertot, all'opera di Dessertot. Partiremo dal testo di Dessertot, per questo abbiamo stampato una serie di passi scelti dal libro alla presa della parola di cui ha già parlato Pierpaolo. E diciamo che quella lì sarà la base a partire dalla quale andremo a situare soprattutto gli altri due autori, cioè Bourdieu e Castoriadis. In questa maniera, quello che posso già anticiparvi è che avremo una presa di visione più ravvicinata di Michel Dessertot, che come ho detto è l'autore meno noto, ma forse per quanto riguarda lo specifico del 68, più ricco e più interessante per il tipo di opera che ha lasciato. Quindi avremmo un punto di vista più ravvicinato su Dessertot. Gli altri due autori sono veramente due giganti del pensiero. E quindi più che Pierre Bourdieu e Cornelius Castoriadis avremo due figure, spero non due maschere, di questi due autori. Cioè li collocheremo all'interno della prospettiva aperta dal libro di Dessertot. E quindi quando citeremo Bourdieu e quando citeremo Castoriadis un po' faremo riferimento a quello che questi due autori hanno veramente detto. E un po' li connoteremo anche e soprattutto a partire dalla prospettiva aperta dall'opera di Dessertot. Questo lo dico anche perché se ci sono esperti di Bourdieu e soprattutto di Castoriadis presenti o in ascolto e visione, ecco, siano pazienti perché saranno poco più che delle citazioni di questi due autori all'interno del discorso reso possibile dal testo di Dessertot. Come ho detto, quindi, si parte da Dessertot ma si parte anche allo stesso tempo dalla Francia. Perché un elemento da sottolineare, anche in chiave proprio didattica, è che il caso francese è storicamente un caso molto vicino alla realtà italiana, sentito come molto vicino alla realtà italiana, non solo per quanto riguarda il 68 ma in generale. È stato spesso un modello da vari punti di vista, in primis quello giuridico e politico. Come in quel caso, anche nel caso del 68, le continuità rischiano spesso di mettere tra parentesi o di sottovalutare le discontinuità e le differenze. In realtà anche nel 68 il caso francese ha degli elementi di forte singolarità e differenza rispetto al caso italiano. E questo sarà un elemento che ogni tanto uscirà all'interno della relazione. Quindi, visto Dessertot, passiamo all'opera, che sarà un po' la base, soprattutto, della prima parte della relazione. Allora è un'opera, la prise de parole, la presa della parola. Allora, la presa della parola, la traduzione italiana, comprende dei testi usciti alla fine del 68 e raccolti in questo libro che vedete a sinistra in francese. C'è una parte che è uscita subito, alla fine del 68. Poi, il libro italiano raccoglie anche una serie di testi scritti successivamente, ma che la curatrice dell'opera di Dessertot, Luce Giar, ha pensato di includere per continuità tematica. È una continuità anche qua particolare perché, per esempio, la seconda parte dell'opera è completamente dedicata a Sud America. Questo lo vedremo. Non è un atto arbitrario, anche una scelta molto significativa, perché effettivamente l'opera di Dessertot ha toccato anche le questioni religiose e politiche dell'America Latina. Allora, ho preparato... Vabbè, ormai ci siamo conosciuti attraverso queste lezioni, quindi mi permetto anche di fare dei rimandi a lezioni scorse. Questa era un'immagine che avevamo utilizzato nell'incontro sul situazionismo. Giusto per dare un po' la cornice all'interno del quale accade il 68 e accade l'opera di Dessertot. Avevamo detto al tempo che uno degli elementi caratterizzanti, il contesto all'interno del quale capita il 68 è il pieno radicamento della società dei consumi. Ecco, in Francia, la Francia si caratterizza per aver prodotto le... beh, non le prime forse, ma direi le più significative analisi della società dei consumi, con due opere che sono diventate anche molto note, la prima di Roland Barthes, Teologie, tradotto in italiano miti d'oggi, e poi proprio l'opera di Baudrillard, che è del 70, ma è stata scritta in realtà a metà degli anni 60, composta e poi scritta a partire dalla metà degli anni 60, che proprio riprende la formula società dei consumi. Quindi siamo nella casa non tanto dello sviluppo della società dei consumi, che era una caratteristica di tutto il mondo occidentale, ma nel contesto in cui quell'oggetto lì, quel fenomeno lì, è stato analizzato in maniera forse più sistematica e innovativa. Ecco, un altro elemento da tenere a mente nel trattare il 68 francese, un aspetto che viene spesso lasciato in secondo piano, ma che invece, per esempio, distingue in maniera molto forte il contesto francese da quello italiano, cioè la crisi algerina. È stata per almeno due motivi, lo shock politico segnato dall'inizio della guerra d'Algeria e le fratture del campo intellettuale. Il primo aspetto, quello politico-militare, lo vedremo subito dopo, è abbastanza intuibile, è stata una guerra sanguinosissima, lunga, durata vari anni, che ha portato a un profondo cambiamento proprio del sistema istituzionale francese in risposta all'inizio della crisi d'Algeria, che ha visto, tra l'altro, muoversi anche a livello politico-militare degli attori molto importanti della storia politica francese successiva. Questo lo vedremo tra poco. Dal punto di vista intellettuale, con questo da tenere presente, il campo intellettuale francese si è spaccato e si è ricomposto attorno e attraverso la guerra d'Algeria. È stato un evento che ha toccato tutti e cui nessun intellettuale ha potuto sottrarsi, intellettuale francese ha potuto sottrarsi a livello di posizionamento e quindi costituisce un elemento che probabilmente in Italia non ha corrispettivo diretto. Anche dal punto di vista politico segna la nascita di identità e di frattura proprio del campo politico che non hanno un vero corrispettivo nel campo italiano. Mentre per l'Italia l'equilibrio uscito dopo la Seconda Guerra Mondiale rimane per decenni, in parte tuttora, il campo di riferimento per quanto riguarda le coordinate proprio politiche. L'Algeria modifica quel campo inserendo almeno un asse nuovo. L'asse nuovo retrospettivamente è riconducibile a questa figura. In realtà le figure importanti per la nostra storia sono due. Uno è il generale Massu, che è stato il capo militare dell'esercito francese sia in Egitto che poi in Algeria. La persona che viene insignita di un'onoreficenza è Le Pen. Jean-Marie Le Pen che era paracaduttista, era eletto nel Parlamento francese quando scoppia la guerra in Algeria. Lui riprende la sua veste di militare e partecipa attivamente alla guerra d'Algeria. Va tenuto presente che la guerra d'Algeria parte con una pacificazione decisa da De Gaulle. Quindi la successiva, perché il Front National viene fondato nel 1972, quindi dieci anni dopo la fine della guerra d'Algeria. Il Front National nasce in opposizione alla pacificazione scelta imposta da De Gaulle nel 62. Questo è un elemento importante che va tenuto presente. Anche perché l'Algeria sarà, lo vedremo tra poco, il terreno su cui si misureranno anche dal punto di vista teorico due dei tre protagonisti della lezione di oggi. Quindi diciamo due elementi. La Francia come culla dell'analisi teorica della società dei consumi. Francia come paese attraversato da una crisi centrale, cruciale, che ha avuto luogo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Quindi è una cesura nella storia politica e culturale francese che non ha paragone con quanto accaduto in Italia. Ora qui ho preparato un brevissimo profilo biografico di Deserteau, perché mentre delle altre due figure potremmo fare dei riferimenti più rapsodici, Deserteau, essendo la figura centrale, va un po' inquadrato, anche perché non è un autore facilmente catalogabile. Quindi nasce nel 25, viene definito da una persona che ha collaborato con lui, maestro che non voleva avere discepoli. Nel 40 c'è la prima presa di posizione, quindi lui adolescente, prima presa di posizione contro i padri, cioè contro i padri che avevano accettato il compromesso, la capitolazione di Petene. Il testo che ho scelto è questo, lo leggiamo. Non è scritto da lui, è scritto dalla curatrice, dalla sua opera, anche collaboratrice. Quindi duro lavoro di emancipazione che ciascuno deve compiere in prima persona contro la rassegnazione dei padri, il sostegno al vecchio maresciallo, Petene, il discorso moralizzatore della disfatta meritata da una Francia peccatrice. Quindi il momento inaugurale dal punto di vista biografico del percorso di Deserteau è questo, quindi una presa di posizione politica sostiene la resistenza. Cosa iperminoritaria in Francia. Questo è un altro elemento di falsa continuità. rispetto all'Italia. Nel 50 entra nella compagnia di Gesù. Stiamo parlando di un gesuita. Tra il 65 e il 68 e qui cominciamo a tessere dei fili rispetto a quanto ho detto in precedenza. Anche per Deserteau c'è un'esperienza nel mondo in via di decolonizzazione. non è l'Algeria, nel suo caso, va in America del Sud. È un momento molto importante perché nasce questa passione per queste società giovani, metice in ebollizione, dove delle minoranze attive ed intellettuali impegnati di comunità cristiane di base cercavano di porre fine al disordine costituito se necessario ricorrendo alla lotta armata. Qui abbiamo già due elementi che ci introducono a categorie fondamentali del 68 e del modo in cui Deserteau ha compreso il 68. Da una parte la rivolta dei figli contro i padri. Non viene riconosciuta l'autorità dei padri biologici e dei padri in senso lato, da una parte. Dall'altra c'è l'incontro con un mondo società giovani, metice in ebollizione un mondo in rivolta. Lo vede, lo conosce sia lato, diciamo, più politico-marxista sia lato comunità cristiane di base. Questi sono i due elementi anche biografici che inquadrano quello che vedremo poi che leggeremo poi sul suo modo di arrivare e descrivere il 68. Ecco, qua per chiudere già il cerchio vi indico il titolo del suo libro più famoso. Io ho detto che Deserteau è il meno famoso dei tre ed è vero. Però ha fatto un libro nel 1980 questa è l'invenzione del quotidiano che è diventato veramente molto importante in chiave soprattutto accademica ma non solamente in Francia ma negli Stati Uniti. Questa è una caratteristica sua. Cioè lui è diventato famoso con questo libro che è diventato una specie di punto di riferimento per gli studi culturali e una certa variante del postmodernismo. In quegli anni lì, insomma, da partire dagli anni Ottanta in Italia è diventato veramente famoso verso la metà anni Ottanta da metà anni Ottanta in poi ha avuto il suo apice direi verso fine anni Ottanta inizio anni Novanta poi nel corso degli anni Novanta è un po' forse affievolito. però diciamo che nell'ambito degli studi urbani studi culturali antropologia insomma è diventato un autore non famosissimo ma insomma rilevante. Ecco, la caratteristica sua è che è diventato molto noto anche negli Stati Uniti questo non è mai ovvio insomma fa parte del suo particolare percorso insomma di aver sfondato la quindi l'opera è stata tradotta in inglese e ha avuto molta circolazione. Cosa dice quest'opera? Bene leggere l'impostazione generale poi non ne parleremo più. Però nella quarta di copertina della prima edizione sta scritto la ragione tecnica crede di sapere come organizzare al meglio le cose e le persone assegnando a ciascuno un posto un ruolo dei prodotti da consumare. ma l'uomo ordinario si sottrae in silenzio a questa messa in forma. Adesso vedremo cosa dice a proposito del 68 però questo libro in realtà è una continuazione di alcuni fenomeni visti nel 68 e analizzati poi con categorie distinte ma che hanno comunque come oggetto come problema questo la ragione la ragione tecnica che organizza la società dei consumi è un po' questo cioè siamo in una in una società retta da dei codici che prefissano il ruolo delle persone e i margini di azione anche politica dei singoli e dei collettivi il 68 viene visto come una reazione come una rivolta contro gli imporsi di questa logica l'invenzione del quotidiano è un libro che invece tende a mostrare come dietro l'apparenza dell'obbedienza e della non risposta c'è in realtà una sorta di rivolta silenziosa questa è la caratteristica che Dessertot mostra analizzando una serie di pratiche mute non quindi di documenti non di prese di posizione esplicite ma di modi a partire dal quale i singoli si trovano il loro posto e la loro nicchia di libertà all'interno della società contemporanea quindi vengono analizzate cose molto diverse dalle ricette di cucina alla pratica della lettura cosa succede quando una persona legge un testo al modo in cui il singolo si muove e abita la città gli oggetti di analisi sono accomunati dall'essere delle pratiche appunto non esplicite e dall'essere lette da deserto come altrettante tattiche di resistenza contro l'imporsi di un codice che prefissa in realtà posizioni e margini di manovra diciamo questo è il percorso complessivo adesso io vi ho distribuito un testo con dei pezzi che non possiamo leggere sono sei pagine e quindi ho messo in fila i punti principali io sarei però per leggere almeno alcuni di questi passi perché così cominciate a conoscerlo anche meglio è un autore relativamente facile come vedrete sono sono testi che hanno anche una forte carica poetica in vari passaggi non sono pezzi di teoria sono delle delle prose appunto attraversate da una forte vena anche anche poetica e sono hanno il registro della riflessione e aiutano secondo me a riflettere ora vediamo il primo il primo testo allora il dopo si ricollega al prima questo è il problema di deserto lui scrive dopo che gli eventi del maggio si sono già esauriti era quasi impossibile non farlo perché questa è un'altra cosa che va detta il maggio francese dura il maggio dura pochissimo fine maggio il 30 maggio poi lo vedremo la persona che aveva messo fine alla guerra d'Algeria con la pacificazione De Gaulle è al potere anche nel 68 il presidente alla fine del maggio il 30 maggio De Gaulle dopo un momento di crisi che vedremo in seguito fa un discorso alla nazione in cui proclama prossime elezioni che saranno fatte a fine giugno e sostanzialmente chiama i francesi alla difesa della Repubblica la chiamata avrà successo le elezioni si svolgono nella seconda metà di giugno e danno successo alle forze golliste successo netto quindi diciamo che l'apice sia lì alla fine di maggio dal discorso di De Gaulle in poi fino alle elezioni diciamo che il dibattito politico è polarizzato dalla scelta attorno all'ordine o disordine era connotato così vince l'ordine si parla già di fine giugno quindi i tempi sono molto molto rapidi e Dessertot scrive appunto da dopo la fine dell'estate le piogge di agosto paiono aver trasformato i fuochi di maggio in resti lasciati alla nettezza urbana mentre Parigi era fuori le strade e poi muri sono stati ripuliti questa operazione di pulizia coinvolge anche la memoria dove i ricordi si cancellano il silenzio dell'estate piena ha coperto le parole e le manifestazioni di primavera come l'acqua che lava la spiaggia il dopo si ricollega al prima eccoci qua di nuovo che gli scarti siano gettati nella spazzatura peraltro non significa che questa rivoluzione mancata sia stata dimenticata qualcosa di noi vereste impigliato qualcosa che non riusciamo a eliminare tanto facilmente fermo qua altrimenti penso che abbiate cominciato a a cogliere la tonalità allora il tono è doppio da una parte è un invito non cedere a interpretazioni banalizzanti non cedere alla seduzione del ridurre quanto accaduto a fenomeno o secondario o comunque spiegabile a partire dagli apparati consolidati questo sostanzialmente è l'elemento che ritorna anche nei passi che andremo che andremo a vedere la sua intenzione è quella di far mantenere problematico quello che da da vari punti di vista comincia a diventare facilmente spiegabile e banale e retrospettivamente prevedibile perché questo è il suo punto lui De Sertot cerca di salvare il carattere di imprevedibilità e di novità di effettiva irruzione del nuovo del 68 contro le griglie interpretative che subito sostanzialmente cercano di recuperare l'evento leggendolo all'interno delle rispettive logiche disciplinari è che questo è uno degli assi che caratterizzano la prospettiva di De Sertot poi ho nominato una serie di protagonisti allora del testo di De Sertot i protagonisti del testo e anche degli eventi del maggio sono stati gli irresponsabili che è un termine che va anche oggi molto molto di moda chi sono gli irresponsabili sono quelli che erano supposti essere gli esecutori ci sono le persone che hanno i codici della società dei consumi che reggono l'ordine della società contemporanea non è il comitato d'affari della borghesia ma insomma c'è un cervello c'è una testa della società c'è una testa e c'è un corpo quelli che si rivoltano sono corpo in attesa di diventare testa sono gli studenti sono quelli che diventeranno dovrebbero diventare classe dirigente non lo sono ancora sono in fase di di formazione al momento devono stare al loro posto e la parola ha definito effettivamente la cultura c'è equivalenza tra prendere la parola e prendere le cose in mano nel giugno scorso i fatti hanno dimostrato che non è così nel senso che quelli che hanno preso la parola hanno perso lui intende le elezioni ma il problema è ancora più grave la parola che reclama un mutamento del sapere o del socialismo è sgorgata dalla parte del non sapere o di coloro che venivano considerati come degli irresponsabili cioè la rivolta cioè la rivolta è stata inquadrata dal sapere come una rivolta del non sapere come una rivolta di ignoranti o di persone che non avevano ancora acquisito gli strumenti veri del sapere De Sertot fa una specie di difesa dotta di difesa del carattere conoscitivo del non sapere del carattere euristico e stimolante di quelli che all'inizio sono stati inquadrati come soggetti semplicemente devianti o non in grado di capire la dura regola della società contemporanea e altro categoria scisma tra irriducibilità della coscienza e oggettività delle istituzioni questo è il problema cioè De Sertot valorizza il momento della della rivolta e la caratterizza come una rivolta simbolica che ha avuto la forma della presa della parola vede però qual è il limite cui poteva portare e ha portato questo tipo di rivolta appunto l'opposizione tra l'esperienza di coloro che hanno preso la parola e e la non risposta da parte delle istituzioni cioè lui dice non possiamo valorizzare come un atto riuscito la presa della parola nella misura in cui questo atto non arriva a toccare effettivamente e a modificare nel profondo l'assetto della società per com'è restituita e quindi lui valorizza diciamo l'impatto che comunque quella questa rivolta simbolica ha avuto nei confronti dei saperi e dell'assetto della società francese del tempo individua il limite nell'incapacità di proseguire in questo atto di riarticolazione dell'ordine deserto non è uno che assume come una un'opposizione necessaria alla fine inevitabile quella tra momento diciamo della critica momento della rivolta anche festosa e ordine quotidiano deserto sostiene che una società che si incartina su questa opposizione cioè che separe il momento della critica del dibattito rispetto al momento dello svolgimento rutinario diciamo delle sue attività è una società che non può tenere ed è per questo la forma che ha assunto il maggio in Francia ha per lui una è per lui anche la manifestazione di un limite proprio perché questi due termini rimangono irrelati la presa della parola beh questo è un pezzo che vale la pena di leggere anche perché molto felice dal punto di vista della scelta dei termini e delle immagini allora lo scorso maggio la parola è stata presa come nel 1789 è stata presa la bastiglia la piazzaforte occupata è quel sapere detenuto dai dispensatori di cultura destinato a mantenere l'integrazione o la reclusione di studenti lavoratori e operai entro un sistema che prestabilisce la loro funzione dalla presa della bastiglia alla presa della sorbona tra questi due simboli vi è una differenza essenziale che marca l'evento del 13 maggio 1968 oggi è la parola essere stata liberata punto successivo teoria d'evento è un aspetto che ho già citato uno dei suoi problemi è questo che rapporto assume la teoria il modo in cui pensiamo l'evento rispetto al carattere di novità e di imprevedibilità dell'evento stesso qui Desertore lo vedremo meglio più tardi assume una posizione critica rispetto a praticamente tutte le griglie interpretative che sono state messe in campo allora la cosa che lo caratterizza che qualifica anche il modo in cui guarda all'evento è il suo carattere diciamo umile cioè Desertore nel un paio di capitoli passa in rassegna con brevissime recensioni o brevissimi inquadramenti decine e decine di opere che prendono ad esame il 68 quindi fa una specie di di esame tra virgolette orizzontale dei colleghi che hanno come lui lo stesso oggetto che adottano delle delle griglie interpretative diverse e lui fa qui un'opera un po' di mediazione cioè cerca di condividere con con il lettore le le sue linee interpretative di quella che è la storiografia del 68 che comincia praticamente con il 68 stesso quindi fa anche un lavoro di servizio fa un lavoro quasi di si spesso queste cose qua non vengono pubblicate in realtà questa è una caratteristica sua di portare alla pubblicazione dei pezzi di di lavoro che spesso vengono lasciati nella retrobottega dell'opera vera e propria beh qui dobbiamo correre un po' e i testi li avete anche per per casa diciamo che due o tre cose che sono da sottolineare sono beh intanto qui punto 6 innovazione regressione marginalizzazione qua deserto fa un ragionamento sul percorso che deve prendere in una società l'innovazione come vedremo anche in un punto successivo il discorso che che fa ha come base empirica un po' gli eventi del maggio ma molto quello che ha visto in america latina cioè lui dice che la novità fa sempre fatica a imporsi in una in un ordine costituito è imprendibile per quelli che detengono l'ordine da una parte dall'altro per prendere spazio per per diffondersi questa novità deve prendere deve prendere in prestito delle maschere che sono già riconosciute quindi in un certo in una certa misura deserto sostiene che è inevitabile una una sorta di automascheramento della della novità e le due tendenze che individua sono la regressione cioè il far riferimento ad eventi a movimenti passati una cosa che nel 68 c'è praticamente subito il rifarsi alla comune rifarsi a furie o a insomma citare dei dei movimenti e delle azioni passate per legittimarsi oppure marginalizzarsi e questo è il rischio che vede deserto ghettizzarsi quindi la sorbona a un certo punto viene viene presa ma allo stesso tempo è il luogo in cui ci si rinchiude quindi allo stesso allo stesso momento l'atto con cui si conquista un luogo diventa anche il momento in cui si rischia poi che è quello che succede di rinchiudersi in quel luogo lì e di non riuscire più a incidere sull'esterno altri punti ecco cosa vuole il 68 cosa dice questo è un elemento importante presa della parola uno si potrebbe potrebbe pensare che deserto analizzi quello che le figure più significative del movimento dicono in realtà dice l'opposto cioè la presa della parola si distingue viene valorizzata ma va distinta dal contenuto che dei discorsi che vengono fatti dalle varie persone che che prendono la parola perché perché i contenuti di questo linguaggio fatalmente riprendono l'armamentario concettuale discorsivo che c'è già cioè lui dice se noi ascoltiamo le cose che vengono dette le analizziamo dal punto di vista semantico diciamo tenderemo a riconoscere a riconoscere continuità con quello che è già stato detto in maniera magari più più compiuta e ordinata quello che dice deserto è che la presa della parola è importante perché permette un cambiamento di registro ma lasciando le note come sono le note sono le categorie sono i concetti dice effettivamente molti dicono che il 68 ha 20 parole sì sono 20 parole continuano ad essere ripetute più o meno le stesse le stesse parole se stai al significato della singola categoria della singola parola non riesci a a trovarne punto il significato il significato non sta nella categoria nella singola termine nel singolo discorso che viene enunciato ma nella volontà di prendere la parola nell'idea che quel momento lì sia il momento in cui tutti hanno diritto di prendere la parola e questo è l'elemento per deserto significativo come dicevo a fine maggio si raggiunge l'apice gli operai gli operai respingono l'accordo di Grenell che era stato stretto dei sindacati e lì il momento forse più forte della crisi subito dopo questo questo rifiuto De Gaulle sparisce lo vediamo nel punto 14 a Bemus Papam se a Bemus Papam ce lo metto io è proprio quel momento lì cioè De Gaulle sparisce De Sertou lo ricorda questa è una cosa che è stata percepita però anche in Italia una questione così pericolosa ha avuto una risonanza quasi immediata in quel luogo che la democrazia istituisce come sua chiave di volta come segno del rapporto tra la nazione e le proprie rappresentazioni il governo ebbene il governo ha vacillato è sprofondato qualche ora qualche giorno forse fatto così incomprensibile che lì per lì nessun partito si è sognato di prendere il potere sì quello che succede in quel momento lì si parla di fine maggio è questo rifiuto operaio degli accordi di Grenell De Gaulle sparisce appunto poi si capisce dove è andato è andato a Baden Baden a parlare con Massu il generale che avevamo visto prima capo militare dell'esercito francese prima in Egitto e poi in Algeria la conversazione allora in Franca in realtà non c'è stato solo questo c'è stata una serie di triangolazioni anche diplomatiche torna e nel 30 maggio fa questo discorso alla nazione in cui fissa nuove elezioni quindi il momento di oscillazione diciamo è stato forte ed è stato percepito subito dopo c'è un fenomeno di progressivo ritorno all'ordine ed è quello che Deserteau registra la formula che lui utilizza è dalla presa della parola alla parola ripresa la cosa che allora si chiede come è stato possibile che in così breve tempo ci sia stata un'oscillazione tanto vasta all'interno della società francese e cosa succede in questi pochi giorni beh succede per esempio che la rivolta non viene creduta nella sua forma più diretta e superficiale cioè molti non credono che in realtà la rivolta sia stata fatta solo dagli studenti ci devono essere stati degli agenti provocatori ci devono essere stati dei soggetti dietro la superficie degli eventi che la muovevano non può essere che dal cuore della nostra società si sia mosso quello che si è visto quindi c'è un fenomeno di reinterpretazione di quello di quanto di quanto accaduto di spiegazione politica adesso diremmo semicomplottistica comunque c'è una diciamo una presa di distanza dalla realtà degli eventi gli eventi cominciano a essere inseriti in uno schema in uno schema interpretativo di vario tipo va ripetuto questo questo paragrafo in cui deserto caratterizza la il carattere la forma beh inaccettabile dal punto di vista del beh di molti intellettuali anche di molti politici del 68 allora rivolta all'autorità in nome di ciò che costituisce la sua legittimità tale messa in questione era raddoppiata sono al punto 15 dalla contestazione portata dalla rivolta dei figli alla generazione dei padri la minaccia in questo come nell'altro caso veniva dall'interno coccolati come surrogati di quella felicità da cui gli adulti sono distolti a causa del loro lavoro ma anche destinati a dimostrare attraverso la loro attesa iniziatica il valore della società che è loro preparata i rampolli di una cultura i privilegiati di un sistema erano proprio coloro che si rivoltavano contro il ruolo preassegnato di essere per mezzo di una vacanza indefinitivamente prolungata la sicurezza dei possidenti l'alibi di un presente altrimenti privo di senso e i garanti di uno sviluppo omogeneo quindi quello che ho definito la rivolta degli eredi il motivo per cui utilizzo il termine eredi lo vedrete tra poco carattere simbolico delle elezioni con fortissimi echi nella contemporaneità italiana o in quella che dovrebbe essere il futuro prossimo italiano cioè le elezioni non sono state elezioni in cui si è votato un partito o un programma si è votato per l'ordine e in questo sono state la risposta simmetrica rispetto alla presa della parola siamo verso la fine come sfuma il 68 sfuma attraverso il ritorno del linguaggio cioè la presa della parola che è parola parlata che è parola vuota nel senso che è più importante il gesto della presa della parola che il contenuto diventa egemonia del testo scritto diventa dominio dell'interpretazione quello che deserto chiama il ritorno del linguaggio bisognerà presto scrivere dei libri su questa marea di libri la massa dei prodotti offerti al consumo è enorme la lettura privata subentra le assemblee pubbliche l'informazione libresca quella della radio immediata e brutale questa letteratura silenziosa che avvolge l'evento è a ben guardare rivelatrice in maggio il silenzio degli uni si combinava con la presa di parola degli altri rapporto che in giugno si è rovesciato stiamo passando alla seconda parte dell'intervento cioè gli altri due autori che entrano qua cioè a un certo punto deserto analizza le cronache del 68 le strisce di cartoni animati analizza una serie di tipologie di tipologie di opere a un certo punto arrivano i tenori del pensiero che è una formula che mi pare particolarmente indovinata dopo i cronisti gli ammassatori di documenti e quelli che li collezionano mettendoli nei frigoriferi da cui si riforniranno i lettori dopo i militanti che si battono con gli scritti quando la parola è stata loro tolta o che ricostituiscono una politica con i resti del mese di maggio alla fine arrivano quelli che spiegano i tenori del pensiero quelli da cui noi beh da cui noi ci attendiamo che ci facciano finalmente capire quattro maestri quattro seduttori il poliomologo vabbè un triunvirato di sociologi un'eminenza della sociologia politica uno psicologo voi non lo sapete ancora ma nel triunvirato di sociologi c'è anche Castoriadis le parole che vengono dedicate a Castoriadis sono poche sono tre righe Jean-Marc Coudret che è lo pseudonimo pseudonimo ha usato quasi sempre pseudonimi fino a metà degli anni 70 Castoriadis ha una prospettiva più costruttiva cerca di capire come un cambiamento qualitativo possa non essere separato da un'organizzazione del quantitativo non accetta che la razionalità e immaginazione si escludano a vicenda lo vedremo poi diciamo che sono anche il triunvirato di sociologi si è introdotto in maniera sarcastica in realtà e sarà la conclusione del mio intervento quando poi darò la parola a Pierpaolo in realtà la continuità tra quello tra il modo in cui Desertot coglie l'evento e il modo in cui Castoriadis reagisce in presa diretta con l'evento è molto forte molto più forte di quel che uno potrebbe pensare leggendo questa questa descrizione e vabbè la fine della parte su Desertot può essere lasciata questo testo appunto perché l'immagine anche qua è riuscita chini sul motore i libri sul maggio si fissano intorno a questa articolazione alla ricerca del giunto mancante o insufficiente ci si china sul motore ciascuna la sua opinione e designa la causa di tutto il male sotto questo aspetto la vera letteratura sul maggio è già ora costituita in misura minore dalla lettura che ne parla dopo un primo periodo questo è molto importante dopo un primo periodo quello dei cronisti e delle reazioni difensivo-apologetiche dopo un secondo tempo di analici centrate sull'evento arriva ora per ogni scienza umana e ogni istituzione un periodo di ritorno su di sé quindi da un certo punto in poi i libri non sono più sul 68 ma sono sul modo in cui la disciplina alla quale si appartiene ha saputo reagire o non ha saputo reagire con prestazione teorica all'evento quindi è un inizio di chiusura su se stesso del discorso sul 68 e chiudiamo qui questa lunga fase e passiamo agli altri due autori che nella commedia diciamo giocano due parti opposte allora tra i i tenori del pensiero Bourdieu non c'è questa è un'assenza che va molto sottolineata Bourdieu è stato l'unico intellettuale di un certo rilievo a non prendere posizione sul 68 sugli eventi del maggio Bourdieu era a Parigi in quel mese lì ed era già lo vedremo era già un autore importante quindi la caratteristica di Bourdieu è di non esserci nel 68 perlomeno come presa di posizione diretta c'è stato in realtà Bourdieu nel 68 nonostante lui facciamo una piccola allora questo è De Gaulle qua è un fotogramma della sua del suo discorso del 30 maggio e questo invece è Bourdieu Pierre Bourdieu nato nel sud della Francia cosa fa come comincia la sua carriera comincia la sua carriera in Algeria cioè i primi due libri di Bourdieu sono libri di opere sociologiche dedicate all'Algeria dove Bourdieu è stato vari anni è stato vari anni questo allora queste sono delle foto fatte da Bourdieu in Algeria fanno parte di una mostra che è stata fatta a Parigi con queste foto quando per il cinquantesimo non del 68 ma del 62 cioè della fine della guerra in Algeria si torna al discorso di prima quello lì è stata una una cesura molto forte ecco in quegli anni lì Bourdieu era là era là e ha cominciato a forgiare le sue categorie di analisi teorica a partire da quell'oggetto quali sono le caratteristiche dell'opera di Bourdieu sono troppe una cosa che lo caratterizza rispetto a molti altri sociologi è l'uso delle fonti statistiche è una cosa che comincia a fare da subito e che caratterizzerà praticamente tutta la sua opera fino alle lasciando perdere l'ultimissima fase su cui poi torneremo allora in quel momento lì Bourdieu era uno studioso di belle speranze diciamo già noto agli alti piani della sociologia francese cioè da un certo punto in poi Bourdieu entra in contatto con quello che era l'autore centrale Raymond Aron ecco è un nome importante quando Deserteau parla dei tenori del pensiero i Castoriadis e Lefort sono i proschisti o socialismo barbarie la posizione diciamo più più radicale l'altro il tenore liberale il tenore che reagisce in maniera molto negativa rispetto al 68 considerando una sceneggiata è Aron è figura centrale nel campo del pensiero sociale francese del tempo quindi Bourdieu negli anni 60 è in contatto con questa persona e Bourdieu sarà una figura questo va detto così lo inquadrate mentre Deserteau resterà sempre un outsider e uno che non sarà mai veramente incardinato nelle istituzioni di cui ha fatto parte mai veramente incardinato anche se lui ha sempre lavorato con e per istituzioni ma non avrà mai un ruolo egemone Bourdieu è contrario Bourdieu è una persona che fa un cursus o no ha un cursus honorum notevolissimo ha un pedigree ecco non avrebbe avuto bisogno di integrare il suo curriculum se fosse stato chiamato al presidente del consiglio di sicuro curriculum sovrabbondante quando Mitterrand prenderà il potere nell'81 Mitterrand doveva prenderlo nel 68 nel 68 il potere cioè a fine maggio Mitterrand è già in campo e si pone a capo del fronte di sinistra che doveva riportare il paese all'ordine ma come facendo proprie facendo la vis critica del movimento contro quella questo tentativo si pone De Gaulle che poi fa convocare le elezioni e vince poi il centro-destra e quindi Mitterrand aspetterà 13 anni in questi in questi anni Bourdieu compie un'ascesa abbastanza abbastanza rapida diciamo fino ad arrivare nell'inizio degli anni 80 al Collège de France che è il luogo per antonomasia del sapere anche anche sociale i libri con cui il libro con cui Bourdieu diventa famoso è questo libro è I Delfini che esce nel 64 I Delfini è una cattiva traduzione di Leseritiers prima avevo detto che la rivolta dei giovani del 68 era la rivolta degli eredi è avevo in mente questo il libro di Bourdieu si intitola Gli Eredi cos'è sto libro qua è un libro di poco più di 100 pagine in cui si sostiene un'attesi non originalissima soprattutto col senno di oggi l'attesi è che l'istituzione scolastica soprattutto superiore sia un'istituzione che lungi dal fungere da ascensore sociale si configura come il luogo di conferma delle assimetrie di potere della società conclusione negli istituti di eccellenza delle scienze umane francesi chi emerge chi sono i rampolli della società francese che si dimostrano più meritevoli sono i figli di coloro che già occupavano una posizione privilegiata all'interno della società francese questo è il il discorso sostenuto però con forte lavoro su statistico che sostanzia diciamo da un punto di vista scientifico empirico diciamo queste queste affermazioni il libro esce nel 64 e sarà un libro che avrà molto successo nel nel 68 la tesi diciamo che Don Milani è una specie di risposta a continuazione di questo libro possiamo metterla così è un libro che sarà rivendicato come base empirica che motiva la rivolta quando però le persone leggevano utilizzavano questo libro in piazza Bourdieu era nel suo studio a Parigi aveva già una cerchia di ricercatori che faceva capo a lui Boltanski è un allievo collaborato con Bourdieu con cui poi ha rotto un'altra abbastanza famosa è Natalia Enisch i ricordi di alcuni dei collaboratori durante quei mesi sono appunto questi cioè il nostro modo di rispondere e contribuire alla rivolta era quello di continuare il nostro lavoro di ricercatori 64 è questo libro nel 66 e questo libro lo cito perché essendo questo un posto che ha molto a che fare con i musei è un libro che passa inizialmente inosservato e la tesi è simile cioè in altro campo ma la tesi è simile i musei sono fatti per tutti ma mica tanto andiamo a vedere chi sono i visitatori dei musei d'arte sono sempre loro ha successo dopo quando Bourdieu diventa famoso quando diventa famoso beh allora dopo il 68 cioè nel 68 con quel libro lì e soprattutto negli anni successivi quando usciranno dei libri in un momento in cui Bourdieu comincia già a essere noto e sono libri diciamo che sviluppano in maniera più articolata queste queste posizioni qua metto due riferimenti per far capire la posizione di Bourdieu nel 68 allora come ho già detto Bourdieu aveva dei contatti proprio scientifici accademici con Aron rompe con Aron nel 68 ma non per questioni che riguardano gli eventi per un altro aspetto e si va va ricordato questo libro che è una la base intellettuale nel 68 della della reazione accademico scientifica contro il 68 è il libro più rilevante dall'altra parte vedete Sartre ecco il Sartre nel 68 è l'oggetto di una critica serrata da parte di Bourdieu non subito come ho detto Bourdieu nel 68 sta zitto sul 68 ne parlerà dopo sarà l'esempio di quello che Bourdieu chiama l'intellettuale totale che è una figura per Bourdieu caricaturale cioè è il il ruolo che l'intellettuale non dovrebbe svolgere sono varie varie le cose che l'intellettuale non dovrebbe fare per Bourdieu una è questa cioè giocare la propria non il proprio sapere ma la propria notorietà fuori dal dal proprio ambito di lavoro quindi la risposta muta data da Bourdieu a Sartre in quel momento lì era ecco tu monti su e fai una dichiarazione di adesione alla lotta a cui tra l'altro gli studenti risponderanno grazie papà grazie papà Sartre e io studio studio il mio studio il mio cerco di capire spiegare anche cosa cosa sta accadendo il mio contributo tra virgolette alla alla società è un contributo di trasparenza dare mezzi perché la società capisca quali sono le dinamiche reali che la attraversano posizione sostanzialmente è questa come la parabola successiva di Bourdieu vale la pena dirla perché noi dobbiamo mettere qua a fuoco una traiettoria intellettuale una appunto l'ho detto in maniera anche un po' autoironica autocritica la maschera in commedia la maschera in commedia di nella commedia che io sto costruendo di Bourdieu è quella del ricercatore che sostanzialmente smaschera l'ideologia della società meritocratica qualitaria smaschera quell'ideologia lì ma rende allo stesso tempo molto difficile pensare un'azione sociale critica fondata sulle tesi che vengono che sostanziano questa quest'opera è un'opera abbastanza paradossale la riprova è che Bourdieu è spesso scambiato per un barricadero questo soprattutto con il senno di oggi sapendo cosa capita negli anni 90 ci arriviamo tra un po' però diciamo mentre Bourdieu funziona molto bene per criticare le pretese appunto di emancipazione insite nel sistema educativo per esempio ma non solo nella società moderna è molto più difficile tirar fuori dalle tesi di Bourdieu una base che ti che permetta di armare un movimento critico molto difficile questo è possibile solo dimenticandosi pezzi di quello che dice Bourdieu è una cosa che però viene fatta mi sembra non continuamente ma insomma Bourdieu è spesso citato e utilizzato a sproposito se stiamo a quel che dice lui appunto da una certa per un certo lavoro funziona bene per altre cose molto meno comunque cito qua le sue allora per deserto l'opera è dell'ottanta e l'invenzione del quotidiano questa capita più o meno negli stessi anni ed è settantanove la distinzione è critica sociale del gusto dicono che il gusto estetico sia qualcosa distribuito in maniera universale e indipendente dalle differenze sociali mica vero mica vero ritroviamo nei consumi culturali una stratificazione una differenziazione che è strettamente legata alle differenze sociali è un'opera famosa la riproduzione invece è un'opera che nel 70 riprende le tesi dei delfini le radicalizza le le sistematizza è l'opera con cui Burdio diventa definitivamente Burdio cioè una figura centrale nel panorama francese ecco come finisce questa ultima immagine importante qua siamo nel 95 sono non data di scioperi vabbè in Francia ce ne sono abbastanza di frequenti questa era stata particolarmente forte e Burdio fa il Sartre allora questo lo dico io in maniera polemica alcuni sostengono che in realtà questa presa di posizione non è incoerente rispetto alle cose che aveva detto io non lo penso comunque fa abbastanza effetto la somiglianza tra il Burdio è qui e il Sartre allora ricordate che Sartre è continuamente al centro delle polemiche di di Burdio appunto Sartre come intellettuale totale Sartre come prototutologo è questo Burdio critica gli intellettuali che meglio i professori le persone che hanno un sapere costruito all'interno di un determinato campo disciplinare che sfruttano la posizione che hanno acquisito all'interno di quel campo lì per esprimere la loro opinione in campi in cui non hanno competenze specifiche usa il termine proprio italiano di tuttologi è un fustigatore di questo modo di porsi abbastanza sorprendentemente la parabola sua perché muore pochi anni dopo finisce con uno spostamento diciamo abbastanza sì sorprendente verso i movimenti sociali del tempo e questo è Burdiu commento finale che si potrebbe fare è che allora la traiettoria intellettuale di Burdiu è una traiettoria relativamente indipendente da quello che capita nella realtà questa è la riprova lo vedremo tra un po' Castoria disse che il gruppo chiudono socialismo barbarie la rivista nel 67 perché 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 la pensavano come gruppo è una rivista in presa diretta con un movimento rivoluzionario che per loro fine anni 40 negli anni 50 era reale si rendono conto prendono atto del fatto che questo corrispettivo reale non c'è più e chiudono la rivista diciamo che questo tipo di pensiero totalmente alieno dal tipo di lavoro intellettuale svolto da Burdiot questo in certo modo nella ripresa cioè Burdiot attraversa imperturbabile senza esserne veramente toccato diciamo decenni piuttosto turbolenti se ripensiamo all'Algeria lui reagisce facendo scienza e creando diciamo una una traiettoria di progressivo raffinamento articolazione diciamo fino a quasi al barocco della propria opera ma questo si svolge diciamo indipendentemente dagli eventi contingenti la riprova è che il contatto con la realtà dei movimenti si ha in un momento in cui l'effettiva virulenza diciamo di questi di questi movimenti è comparativamente molto meno forte quindi una figura comunque che va conosciuta e tenuta presente perché è stato un modo di influire sul 68 senza volerlo da un certo punto di vista ed è comunque una figura che è stata molto è stata spesso considerata come una specie di artefice del 68 stesso ecco se si va a vedere la realtà del profilo intellettuale di di Bourdieu ci sono degli elementi mantenuti presenti che sono abbastanza sorprendenti rispetto a questa immagine quindi sbozzato la seconda figura passiamo all'ultimo dei nostri protagonisti che è Castoriadis allora l'avrete capito infatti l'avevo detto allora siamo partiti da Deserteau Bourdieu da un certo punto di vista è l'opposto rispetto a Deserteau cioè l'atteggiamento che Bourdieu ha o non ha rispetto a 68 è l'inverso rispetto a quello tenuto da Deserteau quando Deserteau dice che dobbiamo cercare di evitare che i nostri saperi disciplinari inghiottano l'evento cioè lo riducano a una variante prevista dai nostri schemi beh esattamente quello che Bourdieu fa Bourdieu rimarrà per Deserteau una specie di alter ego chiaramente una vetta Bourdieu è veramente un autore di grande raffinatezza non ultimo dal punto di vista retorico sono dei libri scritti in una maniera che colpisce il libro di Deserteau dell'80 l'invenzione del quotidiano ha anche lì come controparte esplicita Bourdieu perché anche Bourdieu è uno che ha lavorato sulle pratiche perché anche Bourdieu ha elaborato la nozione chiave di habitus adesso un attimo gliela dedico a questa nozione che è una nozione che cerca di superare l'approccio teoreticista all'azione cioè noi quando cerchiamo di spiegare l'azione delle persone tendiamo dice Bourdieu ma lo dice anche Deserteau a ricondurla a motivazioni e a logiche esplicite e note e chiare agli stessi attori ma non è così l'azione degli uomini non funziona così se noi vogliamo spiegare questo è una delle cose che fa Bourdieu se noi vogliamo spiegare perché un dato scrittore a un certo punto fa quel determinato libro non possiamo star lì a pensare che l'autore se si prende lo studio un studio sulle tendenze editoriali del momento fa una serie di ipotesi cosa mi conviene scrivere mi conviene scrivere in questo momento un libro giallo ambientato nel litorale romano o mi conviene più scrivere una storia più noir ambientata nel diciassettesimo secolo non fa uno uno studio diciamo da casa da casa editrice non si muove così cioè un autore la logica interna dello sviluppo di un di un'opera è eretta da quello che burdio chiama fiuto cioè tu per essere in quel campo lì nel campo della produzione letteraria o anche nel campo della della sociologia a un certo punto la mossa successiva per far andare avanti la tua carriera devi sapere devi sapere devi saperla usare devi sapere già qual è senza fare questo tipo di ragionamenti se li fai vuol dire che non hai acquisito l'habitus cioè quello che permette a un attore di muoversi all'interno del suo campo cioè devi imparare a vivere all'interno di quel mondo lì e questo lo fai come? lo fai se la tua famiglia ti ha insegnato come si sta come si vive in quel mondo lì se hai trovato le persone giuste che ti hanno introdotto e ti hanno fatto capire quello che si fa e quello che non si fa che a un certo punto non ci pensi più ti viene naturalmente quindi nella ricostruzione delle opere o nella ricostruzione delle scelte matrimoniali per esempio non è semplicemente teoria dei giochi non sono calcoli sono cose che uno introietta e sa fare sa fare ma non c'è mica un codice non c'è mica un software che viene inserito all'interno della testa del soggetto è una pratica il senso pratico sono tutti i termini di Bourdieu sono la stessa cosa su cui si concentra Dessertot chiaramente con una prospettiva diversa però sono due autori che guardano da punti di vista opposti un problema molto molto simile e il terzo autore è un gigante del pensiero a differenza di Bourdieu che è molto connotato come eminenza della sociologia Castoriadis è un autore che è stato attivo in vari campi è la classica opera inclassificabile perché allo stesso tempo è psicanalisi sicuramente politica filosofia un autore molto difficile da da ricondurre ecco a una maschera come io come ho detto voglio fare qua comunque mi ci proverò ho già detto prima Socialismo Barbari e lo Socialismo Barbari è il gruppo cofondato da Castoriadis è un gruppo di esuli dal trotschismo fondato alla fine degli anni 40 dura appunto fino a metà degli anni 60 una rivista che sarà considerata da Con Bendit che è un po' la figura più rappresentativa del 68 francese con un'opera assolutamente centrale dice che l'opera che più l'ha ispirato qui vi indico il titolo di una di uno dei numeri della rivista proletariato francese nazionalismo algerino sì questo tema la guerra d'Algeria è centrale in molti numeri della della rivista Castoriadis in pillole dirò quattro cose allora la prima è che diciamo che la nozione centrale elaborata da Castoriadis ma con il gruppo di Sociali Nouveau Barbari quello appunto di società burocratica allora l'unione sovietica lui in realtà chiama Russia non c'è niente di sovietico una cosa che sottolinea varie volte Castoriadis allora la Russia non è una società operaia degenerata che è la categoria usata dai kroskisti non è una società operaia degenerata è una società in cui vige il capitalismo di stato e quindi è una versione del capitalismo di più l'elemento che unifica il capitalismo occidentale e il capitalismo di stato russo è il ruolo svolto da una nuova classe che è la classe di burocrati quindi la società burocratica è l'elemento comune al sistema russo e sistema del capitalismo occidentale con una variante che fa della Russia una sorta di specchio che ci permette di guardare il nostro futuro l'effetto era un po' questo la società russa è una società burocratica centralizzata attorno allo stato il capitalismo che noi viviamo è una società burocrazia frammentata quindi in qualche modo non è l'America come è stato tradizionalmente il nostro futuro il futuro è quel modello centralizzato con tendenza alla unificazione dei vari fenomeni di micro burocratizzazione quindi questo è l'elemento fondamentale che ha un corollario quasi immediato cioè società burocratica l'opposizione fondamentale non è borghesia proletariato è dirigenti esecutori dirigenti esecutori nel 68 la rivista è già chiusa è stata chiusa in realtà con un ultimo documento breve e amaro nel 67 nel 68 molte cose che lo stesso Castoriadis aveva aveva detto si ripresentano nella realtà infatti la reazione di Castoriadis qui opposta rispetto a quella di Bourdieu è in realtà molto simile a quella di Deserteaux e molto partecipe Castoriadis le cose che scrive in questo libro che è in maggio 1968 la breccia è una formula di convendito la breccia fare una breccia e sono tre autori appunto Morin Lefort che con Castoriadis aveva preso parte su Scellino Barbarì e poi Q3 che è Castoriadis è uno pseudonimo beh in questo testo Castoriadis dice beh dice varie cose io ne metto in fila quattro quindi uno carattere di novità di imprevedibilità dell'evento quindi viene riconosciuto con forza questo elemento è imprevedibile e nuovo soprattutto rispetto all'impostazione marxista secondo punto carattere imprevedibile e nuovo ma anche di conferma della diagnosi fondamentale fatta nei decenni precedenti cioè quello contro cui si rivoltano gli studenti è la società burocratica messa in altri termini ma è questo sono i futuri dirigenti che però sono ancora in stato di semi esecutori che si rivoltano contro questa metamorfosi in atto che li vuol fare da appunto rampolli di quella società lì a futura testa a futura testa pensante di una società di quel tipo questa è questi due elementi si si collega un terzo elemento cioè il limite di quella di questo movimento per Castoria dis il limite è evidente quello della mancata organizzazione cioè è un evento che è rimasto al di qua della capacità di mettere in questione di modificare le istituzioni reali della società per Castoria di questo questo è un limite per Castoria di 68 non è una rivolta riuscita che è quello che sostiene le forze è una rivoluzione mancata perché questi sono gli elementi più caratterizzanti va detta aggiunta una cosa per chiudere diciamo questo volo un po' incerto insomma spero utile sul 68 francese va aggiunta un'ultima cosa vent'anni dopo il 68 gli autori del libro ritornano sull'evento scrivono dei nuovi testi allora Castoria di lì utilizza un testo che in realtà aveva già scritto per rispondere a quest'altro lavoro che va citato questo lavoro di Ferrier Renaud il pensiero 68 saggio sull'antiumanismo contemporaneo questo direi che è la base intellettuale del di una vasta opera non unificata da un cervello ma insomma una vasta opera che si è diffusa soprattutto a partire dagli anni 80 di beh di critica radicale del 68 e della sua eredità questo è uno dei lavori più più articolati e più compiuti cito solamente un elemento proprio per per chiudere anche il discorso che abbiamo fatto Ferrier e Renaud individuano quattro autori caratteristici del pensiero 68 Lacan Derrida Bourdieu c'è Bourdieu uno dei quattro è Bourdieu infatti è significativo che Castori radistica sì ma gli autori che vengono riconosciuti come gli autori caratteristici del 68 sono in realtà gli autori che vengono dopo il 68 cioè che vengono dopo lo scacco del 68 nel giudizio rientra anche Bourdieu in maniera a il quarto non mi ricordo ma mi verrà prende dentro anche anche Bourdieu e Castori radis reagisce a questo a quest'opera soprattutto difendendo il carattere politico del 68 cioè il fronte è stato quello di ridurre il 68 a sostanzialmente rivolta individualistico narcisista erano gli anni in cui andavano anche questi elementi qua cioè come una specie di inizio del riflusso quindi le basi del riflusso in realtà erano già la era già una rivolta narcisista era già una rivolta iper iper individualista la reazione di Castori a Disse è quella di difendere il carattere politico e anche collettivo della rivolta stessa e adesso passo la parola a Pierpaolo sempre lungo questa idea di confrontare il caso francese con il caso italiano vi ho cercato di sottolineare alcuni aspetti che caratterizzano fortemente il 68 francese questo libro qua per esempio di ferriere no è un libro che sarà si un po' citato un po' rifatto in maniera più semplicistica insomma di qua cioè questo tipo di operazione è un po' l'epitome di un atteggiamento che ha larga diffusione anche in Italia forse ancora di più in Italia rispetto rispetto alla Francia questo è un atto di continuità ci sono però tra i due casi quello francese italiano dei forti elementi di discontinuità e alcuni li metterà in luce adesso Pierpaolo non so per me va bene andiamo avanti sì senza siamo avanti no in realtà probabilmente io non risponderò alle cose che ha sottolineato che sono importanti René in questa ricostruzione volevo solo darvi qualche elemento di ulteriore conoscenza seppure molto parziale del terzo e per molti versi più misterioso di questi tre autori perché Descarteau avete capito in realtà poi lui è un gesuita studia molto la mistica cioè è un autore importante un campo di studi e poi con queste analisi estremamente efficaci sul 68 Bourdieu è un tipo era perché tutto passa velocemente centrale nella sociologia super accademico eccetera eccetera e Castella disse un animale veramente diverso come dice il cognome lui è un greco esul in Francia nell'ambiente trotskista francese però rompe rapidamente con le posizioni ufficiali che poi erano variegate come sapete o non sapete non so cose di nicchia il trotskismo si divide si frantuma eccetera eccetera il successo di barbarie è un'esperienza indivamente molto originale abbastanza unica nel suo genere se volete per certi versi anticipa c'è una somiglianza con direi soprattutto quaderni rossi che è una vicenda italiana dei primi anni sessanta qui dovete invece spostare tutto nel tempo di una dozzina di anni di anni prima è una figura notevole e però che ha avuto pochissima fortuna in Italia qualche anno fa in questa impresa che non finisce mai su questa storia del pensiero critico come smeretico c'è un contributo mi pare nel secondo volume di uno studioso italiano lavorare all'università che ricostruisce un po' questa vicenda di Castello disse anche in Italia ma in realtà non è mai entrato veramente all'attenzione e per questo ci sono dei motivi importanti innanzitutto un autore estremamente complesso e anche con un respiro sui tempi lunghi da un lato psicanalista mai sta mai avuto niente a che fare con l'accademia niente a che fare con l'università veramente e in questo c'è anche una forma se volete di elitismo ecco perché gli accademici sono in fondo dentro alla famosa gabbia d'acciaio di cui parlava Weber e di lì non hanno nessuna intenzione di uscire lui si considera fuori da sempre per la sua esperienza di militante di rivoluzionario e poi con una certa ambizione non da poco perché da un certo momento in poi il suo autore di riferimento è Aristotele cioè questo lui dialoga e formula non entro in particolare un concetto di autonomia che non ha praticamente nulla a che fare con il concetto di autonomia così come è conosciuto nella storia politica dalla sinistra radicale italiana ecco non c'entra nulla c'è un punto però su cui ricamano la vostra attenzione che a mio avviso fa capire abbastanza con che personaggio si ha a che fare c'è un libro anticipato dagli articoli e poi usava un'infinità ma molti veramente pseudonomi anche questa è una sua caratteristica che non sto a indagare ma è come dire a me interessa il pensiero non l'etichetta con nomi e cognomi di chi lo elabora oltre che essere questo legato a sue vicende perché insomma lui ha esule eccetera allora questo libro che ho avuto come lui ha tradotto però è una vera casa editrice allora l'abbiamo tradotto e ci ho stilato avevamo due versioni ora era in inglese perché tradotto dal francese da un gruppo estremamente curioso che si chiama Solidarity e che era fatto sostanzialmente da quelli che sarebbero gli equivalenti in Italia dei primi consigli di fabbrica loro erano delegati di reparto che già negli anni 50 si erano organizzati avevano incrociato questo libro questo saggio di Castoriadis che sotto pseudonimo in inglese Cardin in francese Cagliot eccetera vabbè adesso hai due queste vicende però c'è un nucleo concettuale notevole dentro lui fa un'analisi di come funziona una fabbrica però questo può essere trasportato a come funziona in fondo tanti tipi diversi di sistemi organizzativi produttivi e così via dentro all'analisi della fabbrica cosa tira fuori qual è l'elemento che a lui interessa l'elemento che a lui interessa è questo a che fare con la critica alla burocratizzazione e così via sostanzialmente lui dice se noi analizziamo come funziona questa fabbrica è presente avevano più che altro la Renault perché avevano qualche addentellato operaio questo gruppo di soldi con la Renault che potrebbe essere in Italia la Fiat allora venne fuori due cose che l'apporto dei lavoratori a vari livelli a partire da quelli proprio di base è decisivo perché quella determinata fabbrica o entità produttiva funzioni se non ci fosse questo apporto anche creativo che supera appunto creativamente le regole in quanto tali la fabbrica si bloccherebbe di qui viene fuori un discorso sul potere che potrebbero avere questi soggetti una volta che fossero capaci di organizzarsi collettivamente ecco questa è l'analisi che fanno negli anni 50 e che poi è uno degli assi portanti a mio avviso di socialismo barbarico e c'è un apporto molto forte di Castoriadis e d'altra parte di Lefort perché poi Lefort avrà tutta una sua evoluzione molto più liberale se volete ecco diventa a sua volta una figura importantissima nell'accademia Castoriadis mai rimane sempre un marginale cioè ha questa scelta precisa e però nello stesso tempo molto influente perché in Italia non ha nessun successo allora a mio avviso le motivazioni ammesso che abbiano qualche interesse ma forse qualche minimo interesse ce l'hanno sono innanzitutto la sua posizione che radicalizza ulteriormente la critica che è di tutto il gruppo nei confronti non solo della vicenda sovietica cioè russa come lo dice ecco del comunismo reale socialismo reale ma è una critica radicale nei confronti di tutte le esperienze di quel tipo presente nell'orizzonte contemporaneo quindi la Cina e quindi e quindi non si salva niente non salva nulla praticamente e questo a quel punto li marginalizza in modo fortissimo perché nello stesso tempo sviluppano un'analisi altrettanto che vuole essere altrettanto radicale del sistema capitalistico nelle sue varianti occidentali voi capite che l'isolamento è inevitabile e lo è soprattutto in Italia perché in Italia una critica radicale a tutto campo delle esperienze socialiste novecentesche fate molta fatica a provare anche in classe operaia eccetera tutto quello che volete quindi è questa collocazione politica che rende impraticabile è un autore poi difficile editori disposti sì qualche traduzione l'hanno pure fatta ma con scarsissimo riscontro non c'è stato dibattito sulle sue tesi appunto anche perché lui è fuori dall'università quindi non è un autore che può essere utile alla carriera può essere uno che lavora su Castoriadis lo fa per suo diletto personale non è come Bourdieu che a un certo punto facoltà intere si sono organizzate per qui quindi è una figura d'altra parte a mio viso esemplare esemplare perché abbiamo a che fare con un intellettuale di altissimo livello che si pone come come dire in relazione alla pari con coloro che si muovono socialmente politicamente e non assume mai la posizione che sarà di Sartre e così via cioè non si pone mai al di sopra cioè il suo pensiero può essere molto ambizioso ma nel lavoro politico eccetera è totalmente alla pari non era concepibile e non era nemmeno concepibile che ci fosse un singolo che diventava il leader del gruppo eccetera in società di Babri non c'era nessun leader la sua influenza era in dubbio quella dell'effort ma anche di tanti altri forse di altri ancora di più perché di lì vengono fuori tanti personaggi Liotard viene attraverso cioè quindi autori che poi nella loro vicenda post esperienza politica che comunque è molto intensa perché va dagli anni appunto 48 eccetera fino a gran parte degli anni 60 perché è vero che chiudono il socialismo ma poi inizia un ciclo di movimento e che è il 68 ma forse non è proprio solo il 68 anche se io condivido l'analisi che ha fatto René usando autori importanti per cui il maggio dura veramente molto poco però è evidente adesso ma non lo era in quel momento perché si pensava chi viveva quei mesi quegli anni che ci potesse e infatti in altri luoghi c'è stata una ripartenza la vicenda italiana lui insieme eccetera quindi questo coinvolgimento è un coinvolgimento decisivo per la vicenda personale di una figura come Castoriadis l'ulteriore c'è però l'ho già anticipato lui poi mette al centro della sua analisi critica prima ancora che ci fosse il momento di svolta che è dato dall'opera di Sol Genitzin ora adesso queste ne sembra costantanissime ma Arcipelo Gulag ha un effetto dirompente ha un effetto dirompente e in Italia c'è un tentativo di contenere al massimo questa critica che non lascia in piedi nulla dell'esperienza dell'Unione Sovietica in Francia invece l'effetto è che la gran parte degli intellettuali assume posizioni che sono poi vicine all'analisi di Fouret cioè c'è questo storico che fa una ricostruzione della rivoluzione sovietica assolutamente distruttiva e quindi dilaga il pensiero liberale adesso detto molto all'ingrosso Casturadis non si fa coinvolgere in questa operazione assolutamente però nello stesso tempo analizza la società sovietica in termini che a distanza ma si capiva già abbastanza presto era sbagliata cioè lui ha l'idea che l'URSS è una struttura appunto saldissima che durerà nel tempo quando invece poi crolla tutto rapidamente capite che i suoi libri soprattutto quest'ultima fase che non è incoerente nel suo pensiero nel suo percorso però è un'ipotesi che si rivela inconsistente e questo mette in un cono d'ombra quindi succede qualcosa paradossale in Italia per cui non è una gerarchia ma insomma è un'analisi di valore le forti Castelladis sono due figure straordinarie Edgar Morin diciamo così interessanti ma molto molto meno in Italia al contrario Morin in certi periodi è tradotto tantissimo diventa in certi anni popolare diventa gettonata tutti vogliono sapere cosa pensa di questo e quello diventa appunto una sorta titottologo per motivi diversi sia le forti che Castelladis restano totalmente in ombra l'ulteriore ulteriore Castelladis era un interlocutore diretto di chi si muoveva in quegli anni a ridosso del 68 durante il 68 cioè abbastanza appartato cioè non è che partecipasse ai cortei però era uno con cui andavano a dialogare a discutere no altri non era affatto così Burdiolo è lontanissimo l'hai detto siamo contigui come tematiche come però sono antropologicamente veramente lontani l'intervento non aveva nessun altro significato se non di accendere magari qualche curiosità perché il personaggio merita anche per la sua biografia che non è una cosa da poco ecco c'è una biografia in certi momenti anche non dico oscura per carità però lui non ha mai voluto che si sapesse fino in fondo come viveva come che mestiere faceva faceva lo psicanalista ecco questa era la sua attività e poi c'era l'attività pubblica di militante cioè la differenza è che lui si è sempre considerato un militante rivoluzionario questo è sia pure lontanissimo da quello che per noi sono le correnti rivoluzionarie del novecento non è certo così De Sartore non ci ha mai pensato più che ovvio pur avendo quella legge Bourdieu è un'altra roba a parte le immagini finali che sembrano significative ma che nulla hanno a che fare con il suo pensiero che a me sembra una risposta intelligente alla crisi che ha subito lo strutturalismo in sociologia e non solo cioè lo strutturalismo che era dominante fino alla ridosso del 68 viene messo in crisi proprio dal 68 la risposta più intelligente a mio avviso è quella di Bourdieu ma questo fa parte di un altro ambito il quarto era un autore secondario Foucault per quello me l'avevo dimenticato non era tanto dimenticare Foucault appunto questo è un buono uno slogan si può dire che le regole dell'arte sia il punto di massima maturazione e evoluzione in questo senso Barocco che diceva lei prima delle teorie di eh sì ce ne sono due o tre lavori che vanno un po' in questa direzione qua le regole dell'arte vale in un determinato ambito poi c'è quello sulla poco sulla scienza e sulla sociologia sulla riflessività applicata che è più sull'epistemologia cioè non c'è una summa progressivamente diciamo questi vari ambiti assumono una sorta di eh versione classica cioè le analisi diciamo da eh ancora beh incerte ma insomma però da parziali con categorie che devono ancora essere messe a fuoco o devono ancora essere perfezionate progressivamente diciamo questa macchina teorica effettivamente si si raffina e raggiunge dei anche grazie alle critiche c'è questo cioè Bourdieu grazie al dibattito eh accademico migliora cioè risponde alle critiche eh cambia la stessa definizione di di determinate categorie e effettivamente se si seguono i singoli filoni per esempio quello dell'ambito del sistema educativo è uno un altro è quello la regola dell'arte è l'analisi del campo letterario un altro è proprio quello dell'analisi delle categorie epistemologiche e così via se si seguono questi filoni si vede un progresso cioè queste opere sono sempre più coerenti sempre più sempre più compatte diciamo che girano a vuoto si girano a vuoto da un certo punto di vista cioè funzionano bene dal punto di vista del dibattito accademico ma non nel senso del termine cioè è un autorega dal punto di vista lì funziona chiaramente ci sono alcuni nodi problematici ovviamente insomma però diciamo che l'opera si ha una non fa così fa così dal punto di vista teorico progressivamente vengono aggiunte categorie quella di campo diventa centrale a partire da fine anni 70 abitus entra all'inizio degli anni 70 cioè c'è un progresso in dubbio dal punto di vista della delle categorie analitiche sì l'elemento il punto cieco da un visto per dal punto di vista del della lezione che abbiamo fatto e anche dall'oggetto insomma del 68 è un po' semmai la fertilità critica extra accademica di queste di queste analisi quello secondo me resta un punto scoperto e per me quello resta abbastanza un vicolo cieco cioè il quando Bourdieu esce da queste categorie fa la misera misera du monde e quelle sono una serie di raccolte di interviste sì ordinate messe in fila però lì c'è veramente un salto rispetto a questo modo di di procedere però a quel punto ecco non è più Bourdieu e a quel punto allora forse meglio altri altri autori sì perché io mi stavo dato che mi sono ho dovuto appoggiare mi ho voluto appoggiare a mettere quei libri io per analizzare dei feromini che sono sull'onda lunga tra il 68 e il 78 però il libro dato che mi occupo di musica e di altri libri con cui mi sono trovato meglio era un libro del 92 e quindi mi stavo chiedendo ma ha senso qual è quello del 92 ah questo sì sì cioè per cui mi stavo chiedendo com'è possibile che sia più efficace un libro che lui ha elaborato così dopo ma è tutto al passato Bourdieu la distinzione si basa su ricerca degli anni 60 cioè il capitale empirico di Bourdieu si costruisce fino agli anni 70 cioè che poi lui rielabora rielabora raffinando queste mi stavo chiedendo ma è possibile che sia più efficace questo di quello che lui aveva fatto prima sì perché effettivamente concomitantemente rispetto agli avanti sì certo che è possibile sì perché da un certo punto in poi diciamo il laboratorio chiude dal punto di vista dell'ingresso di materiale empirico cioè arriva fino a e dopo c'è una fase di rielaborazione sì questa cosa qua anche a livello di anni no perché ultimamente le teorie di Bourdieu stanno avendo molto successo nel campo dell'analisi sociologica della popular music sì in relazione all'onda 1968 agli anni 70 sì beh allora è una sì è stato applicato per esempio al campo del cantautore Tenco Santoro sì io l'ho fatto sulla fila del resto perché anche quella è una storia violenta se non c'entrava niente ah no ma diciamo che quelle categorie per esempio analizzare una nozione di campo anche da un punto di vista proprio della possibilità per esempio di analizzare quelli che scrivono su 68 cioè molto flessibile tu puoi adottare certe le categorie di Bourdieu veramente a molti campi lui stesso lo fa da un punto di vista anche dico didattico ma insomma di analisi funziona anche cioè è lui stesso che dà una definizione dice che le sue teorie sono le cose che Argentino usa può rifunzionare o non rifunzionare una cosa in genere sì sì e quindi il successo che ha è anche per la disseminazione di queste di queste categorie questo uso a volte filologico a volte un po' selvaggio di queste categorie che lui stesso analizza adotta su e applica su campi molto diversi adesso è una cosa che si è moltiplicata e quindi l'habitus del giocatore di football c'è cioè quella nozione lì il campo il campo della storiografia del 68 sì cioè sono dei una cassetta di attrezzi che effettivamente è molto molto utilizzata poi non tutti lo fanno in maniera rigorosa ecco però questo è un altro discorso insomma quindi le volevo mandare il mio santo e chiedere cosa ne pensa se sono stato ricorso oppure ah sì ah lo leggo però non è che sono ci sono lettori migliori di me posso? certo dunque una questione ciascuno per ciascuno di tre autori abbiamo letto nel il messaggio abbiamo letto quel passo che dice ma l'uomo ordinario si sottrae in silenzio alla messa in forma della vita da parte della ragione tecnica a te mi sembra molto ottimista come pensiero come analisi l'uomo ordinario si sottraga davvero è da vedere e inoltre sembra che lui apprezzi queste pratiche mute di resistenza sembra apprezzare queste possibilità di praticare una resistenza muta che invece non so quando si parlava di maggioranza silenziosa per esempio non era un compimento che veniva fatto questa capacità di stare in silenzio cioè la resistenza non è una resistenza muta soprattutto non è una rivolta e non è meno ancora è una rivoluzione secondo me insomma per quanto riguarda Bourdieu anche qui mi hai detto secondo te è difficile tirare fuori dalle sue dalla sua primaria un'arma della critica si politica si non so io mi avevo letto sul tempo il potere la parola e comunque questa questione della critica del linguaggio invece per me è fondamentale insomma io c'era la possibilità di mettere in atto di utilizzare anche il suo metodo per una critica del linguaggio del potere mi è sembrata non so una parte molto convincente ma una crisi molto convincente la sua è molto utile e infine su Castoriadis ridurre secondo me la rivolta di una generazione contro i padri a una rivolta contro la burocrazia mi sembra veramente limitante insomma non era la burocrazia in ballo in questione non so pensavo alla rivolta degli appunto degli eredi degli ereditieri dei delfini e cercavo pensando un parallelo con la rivolta degli Stati Uniti degli studenti degli Stati Uniti a un film il laureato per esempio nel laureato il figlio del 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 rosso borghese del ricco non si rivolta contro una burocrazia ma contro uno stile di vita contro lo stile di vita appunto della borghese e uno stile di vita quotidiano anche poi magari fai tutto l'ultima cosa cioè bisogna che intendersi burocrazia forse è un concetto che per noi ci porta fuori strada sostanzialmente è l'idea che la società moderna si regge su una la possiamo chiamarla tecnostruttura che poi si interfaccia con la burocrazia cioè le due cose sono indistinguibili cioè stanno a sceme allora chi si rivolta deve fare i conti con questa infrastruttura che apparentemente è inscalfibile perché ogni volta che la si contesta la si riaggiusta cioè quindi è un concetto che a mio avviso approfonde radici in in Weber e lui tende a calarlo nella realtà dei vari tipi di società industrializzate al di là del colore politico è più accentuato l'aspetto oppressivo in forme meno raffinate come potrebbero essere quelle dell'Unione Sovietica lo è meno ma è più efficace nelle forme occidentali però c'è un'omologia questo è un po' e d'altra parte però l'altra faccia è che non sta in piedi questo sistema se non c'è l'apporto attivo e creativo di coloro che lo subiscono quindi è un gioco perverso come si rompe questo conquistando una vera autonomia questo è detto in quattro parole bisogna essere molto cioè io sono stato banalizzante Castori non lo è cioè non lo è è un pensatore a mio avviso affascinante capite che c'è una mia simpatia ma anche molto potente per analizzare il mondo che abbiamo costruito almeno negli ultimi duecento anni almeno quindi è dentro il cuore della modernità questo è un po' il suo obiettivo e quindi nessuna apertura alle letture come dire retrograde orientalizzante eccetera l'URSS è la Russia ma bisogna capire cos'è la Russia la Russia non è un mondo di arretratezza di un mondo primitivo che ha una modernizzazione superficiale la partita è molto complessa lui viene da Trotsky cioè e Trotsky ha lavorato tantissimo su ecco quindi ecco quindi sì sì no io mi riferivo proprio rispetto all'interpretazione no però no direi che basta leggere il libro che non so se è ancora conquistabile in italiano l'aveva tradotto immediatamente Mondadoro che è più ricco delle due righe a cui si limita il nostro deserto e a mio avviso dei tre contributi è comunque più intrigante cioè sono tre no? quelli che scrivono a caldo a me pare che sia il più però il mio giudizio che risale una lettura di 50 anni fa sì 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 diciamo che ha tenuto insomma ricordato che la logica burocratica è quella che unifica fabbrica e scuola se tu parti da quella prospettiva lì non ti sorprende che la rivolta sia partita dalle scuole cioè non è un ambito diciamo subordinato e la vera rivolta non non è ancora di là da venire devono muoversi le fabbriche no cioè da quel punto di vista lì è questo elemento qua di no? questo distingue molto dagli ideologi nel senso sì questo e poi beh la radizia fondamentale anche del il paradosso è la contraddizione di una società così è che sì l'esecutore deve essere un semplice esecutore ma per essere un buon esecutore deve essere partecipe quindi tu allo stesso tempo dai un ordine contraddittorio tu devi essere semplicemente quello che esegue l'ordine ma per essere un buon esecutore di quell'ordine lì eh devi metterci la testa che è una cosa anche rispetto a molte forme del lavoro contemporaneo interessante e lì viene accolta in maniera acuta e su Bourdieu sì anche lì c'è il discorso della critica allora lui la sua sociologia è sociologia critica diciamo che in uno slogan la critica è fatta propria dal sociologo e dalla sociologia in quanto sapere specializzato nella messa in luce delle asimmetrie di potere reale e nello smascherare insomma l'esistenza di queste asimmetrie della violenza simbolica la sua formula dietro l'apparenza di società pacificata e qualitaria però la performance critica è sua mica del movimento allora se diamo al movimento il significato cui diamo di cui 68 è un esempio è diciamo far dipendere l'azione critica di movimento da quel tipo di sapere lì e dalle esigenze anche analitiche insomma di quel sapere lì è un incrocio come minimo non facile secondo me impossibile cioè c'è proprio un salto tra i due momenti un salto che in quegli anni lì si è manifestato in maniera proprio fisica cioè erano due mondi separati alcuni sostengono che ma io mi sembra credibile però non ho lì expertise di prima mano ma secondo alcuni sì c'è una rottura con Aron quello che ha fatto il libro la rivoluzione introvabile e che dice un psicodramma 68 come psicodramma e molti dicono che in realtà l'opinione di Bourdieu è sul 68 anche se lui non ha mai preso posizione direttamente sul 68 è simile è molto simile la spiegherà spiegherà poi il 68 Bourdieu vari anni dopo come una non come una reazione da parte dei rampolli che non accettano il ruolo che avranno da grandi non è una rivolta degli eredi non è una rivolta dei privilegiati no è la rivolta di chi teme di di non avere il posto che avevano i padri cioè quindi la legge è proprio come capacità degli attori che sanno stare nel loro campo di annusare quale è la mossa futura che devono fare capiscono che il campo sta crollando capiscono che il posto che nei decenni precedenti sarebbe stato assicurato non è più sicuro si nervosiscono prendono paura e scendono in strada adesso io la sto ipersemplificando però insomma la direzione è un po' questa quindi sicuramente sì l'elemento critico leggendo Bourdieu c'è ecco non è e anzi sociologia e sociologia critica dal suo punto di vista sono sono la stessa cosa altro altro discorso è fondare un movimento critico su quel tipo di sapere lì è una cosa che molti hanno cercato di fare o hanno pensato di poter fare se non si può fare con quella maggiore ragione con la filosofia perché Bourdieu infatti poi pensiamo Bourdieu scrive questo insomma contro Sartre contro l'intellettuale totale ma in realtà lui c'è anche con i filosofi in generale con la filosofia con i filosofi tant'è che dice di aver scelto sociologia dopo aver fatto filosofia alla scuola normale perché contro l'imperialismo della filosofia contro la contro questa astratta sì infatti c'è tutta una polemica anche con Dermida insomma poi ma e quindi no mi chiedevo ma allora Marx che è scritto veramente quando la sociologia era ancora una allo stato allo stato decente che dava ai filosofi questo compito di cambiare il mondo in realtà poi i filosofi hanno fatto poco niente diciamo che è più il pensiero critico dei sociologi qui che ha anche anche le figure che abbiamo visto Liffere Marcuse eccetera sono sono sociologi beh do due cose poi perché sono mi inserisco una volta il libro di Bordeaux i Delfini viene tradotto da Guaraldi quando? tradotto non lo so non l'ha esatto va bene no perché ero molto ostile alla similazione che ha fatto René Bordeaux i Delfini e la lettera di Don Milani perché a caldo la recensione è stata opposta risposta continuazione nel senso che dove finisce i Delfini comincia l'azione comincia il 68 diciamo e comincia quel tipo di ma sono due due pezzi cioè da una parte complementari certo possono essere anche rivisti come opposti di sicuro complementari sono due prospettive ma è una cosa importante che diceva lei dicendo sono cose piccole però la lettura di Bordeaux e Passeron perché erano due autori è stata vista come una lettura che rendeva in ancora più incomprensibile quello che stava succedendo non so se mi spiego perché se la sua analisi regge il 68 è una pura assurdità contestando la tesi di base che poi è volgarizzata eccetera eccetera è una rivolta dei privilegiati che vedono messo in pericolo forse il privilegio ecco questo era rifiutato in modo totalitario e anche magari ideologico se volete però era qualcosa di inaccettabile perché quello che invece importava era il fatto che partendo da strati giovanili che erano molto più ampi molto più orizzontali che non gli studenti dei licei eccetera non era fatto così e non si fermava al mondo della scuola ma attraversava i giovani nelle fabbriche in ogni dove e quindi la contestazione la ricezione è stata molto ostile anche se adesso non saprei dire chi ha scritto sul momento in risposta non al testo originale ma a ecco il ticchedevo di guaraldi quando è uscito ricordo le discussioni insomma il testo da una parte era coinvolgente perché trattava il tema che si interessava dall'altro per noi era una lettura tipicamente accademica eccetera eccetera con tutti gli ideologismi che ci costruivamo attorno al contrario Don Milani Don Milani era Don Milani quindi era un corroborante non so come ecco era visto così anche da persone che non c'entravano nulla con il rigorismo poi di fondo di Don Milani beh adesso io termini esatti non li conosco però per stare anche al discorso che si faceva non è che il sociologo può cambiare il mondo o meglio quello che può fare il sociologo è darti una rappresentazione veridica di come è fatto il mondo questo è il carattere cioè la forma dell'impegno possibile del sociologo è questo è di mostrarti come è fatto veramente il mondo sociale quindi con tutto il suo portato di violenza di esclusione smascherando le immagini edulcorate del mondo sociale stesso quindi fa questo per cui io intendevo complementare in questo senso cioè questo discorso generale i delfini è focalizzato su un angolo molto specifico cioè un segmento del sistema educativo francese che è fatto così ti dice vuoi cambiarlo vabbè Don Milani lo cambia cerca di cambiarlo ma sono due registri proprio diversi quindi non mi sorprende che ci sia la reazione perché sono due punti punti di partenza proprio diversi diciamo che interpretando Bourdieu si può dire che il suo contributo può essere visto come quel contributo che permette agli attori di conoscere meglio la realtà del mondo in cui stanno quindi il portato di illuminismo insomma che può avere quella quella opera lì è di questo tipo sì quindi filosofia sì lui ce l'ha con un certo tipo di di filosofia e lì si torna però al discorso della pratica diciamo testa e corpo in un altro senso cioè ce l'ha soprattutto con la filosofia dell'esistenzialismo con l'idea per cui il singolo in una qualche parte di sé ha una riserva di libertà inattingibile rispetto alle forze esterne lui invece cerca la violenza simbolica all'interno del corpo degli individui cioè lui sostiene che in realtà questa costruzione del soggetto dell'individuo come portatore di una qualche sorgente riserva ineliminabile di libertà è forviante perché perché il mondo sociale è fatto in maniera tale che i singoli da piccoli questo è molto importante il discorso dell'educazione da piccoli quindi nelle famiglie e nelle scuole sono marchiati è un'analisi che fa e proprio della postura degli individui del modo anche questo vedi che c'è correlazione ma antitesi con il muro come Castoriadis proprio su questo sono radicalmente con il discorso dell'istituzione immaginaria dell'elemento creativo sì anche sui generi sul certo dominio maschile sì 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 diciamo che il tono dominante dei libri di Bourdieu è l'amaro è una è una ricostruzione molto articolata raffinata e diciamo poco poco motivante all'azione dire poco lascia sono delle dei libri da un certo punto di vista denuncia anche perché continui smascheramenti di illusioni di libertà di illusioni di parità questo del rapporto uomo-donna è tipico ma poi se lo si vede anche in una in tutti i campi che vengono attraversati l'elemento caratteristico il leitmotif insomma è questo distizia anche molto con Arendt sì vabbè ci stiamo anche in posto rispetto a eh deserto tu dici che è ottimista me la caverai così eh 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 68 è passato da 12 anni è cambiato il mondo nel frattempo eh ah nel 68 c'è stata la presa della parola scrive in in un contesto è anche il motivo del successo scrive in un contesto in cui la la presa della parola non è più di moda in un contesto di riflusso di chiusura di tutta una serie di discorsi proprio in quegli anni lì Lyotard scriveva la condizione postmoderna nel 79 allora abbiamo detto che Mitterrand va al potere nell'81 ci va con Foucault quello che avevo dimenticato che all'inizio faceva parte del governo subito dopo Molla la sinistra alla fine va al potere la sinistra divina eh ormai svuotata di ogni reale eh capacità rivoluzionaria anche anche riformista di fatto l'onda si è abbassata da un po' in quel contesto lì eh individuare delle lui le chiama appunto tattiche di resistenza dei eh dei dei luoghi delle le forme di azione che ti che permettono di sperare che il il quadro non sia del tutto pacificato e del tutto chiuso su un imporsi del dei codici dominanti beh quel quel punto di vista lì è stato un punto di vista che ha ha permesso di declinare delle forme di eh beh di di ricerca non non beh critiche sì in un senso debole eh sono passati gli anni e la la ricezione di di deserto il motivo per cui ha avuto successo è stato soprattutto questo qua cioè delle andare a vedere delle forme pur interstiziali questo è un termine che andava cioè il potere si è incardinato eh delle forme più frontali di rivolta non sono più possibili eh andiamo a vedere nei negli spazi nei residui che vengono lasciati nelle maglie del sociale se ci sono lì degli spazi di agibilità di azione e di emancipazione è un po' questo cioè ha individuato delle possibili piste per valorizzare degli elementi che in quegli anni lì eh non vedevi ma perché c'era il buio era un po' questo c'era lo shock del della della sconfitta questo è fortissimo che anno è? scusa che anni sono? è 80 deserto e Lyotard scrive condizione postmoderna che è uguale come tono è stato letto male secondo me ma il tono dominato è quello della sconfitta la categoria principale che lui usa è il sistema è il sistema il sistema ha vinto lui parla di il sistema nel senso di Luhmann ma è fortissimo questo elemento qua e lui lì tira fuori questo discorso delle micronarrazioni delle contronarrazioni a somiglianza di famiglia con le cose che dice desertonano dopo il Foucault invece è microfisico del potere che fosse un titolo inventato di quando è perché mi sembra una costruzione è 77 scusa ma visto che è stato accennato allo strutturalismo la forticea allo strutturalismo tra questo tipo di sociologia ebbè Bourdio viene da lì Bourdio viene da lì viene da lì e la struttura il funzionalismo a mio avviso viene messo abbastanza in crisi dall'evento 68 inteso in senso ampio e mi pare che Bourdio sia almeno ripeto quello che ho già detto magari non ha molto senso sia la risposta intelligente cioè la capacità di superare questo impasse che in altri campi è stata come dire decisiva un po' so di storia della storiografia la storiografia che era tutta scientifica quantitativa che era in grado di misurare tutto quanto era avvenuto nel tempo dopo la crisi del 68 intesa come crisi culturale ampia parte il discorso della narrazione partono tutta un'altra modalità di approccio alla storia che poi è quella che è tuttora in grosso modo quindi è una cesura netta nel caso di Bourdio mi sembra una risposta efficace alla messa in discussione dello struttural funzionalismo che per me sono accomunati però sto parlando senza competenze specifici diciamo che è uno sviluppo dell'impostazione strutturalista in cui l'elemento che aggiunge sono i corpi lo strutturalismo se lo strutturalismo ti porta a dei software a dei codici il Bourdio in più rispetto a quella prospettiva lì aggiunge la capacità di incarnare di inserire queste differenze e queste opposizioni questo sistema di opposizioni che è lo strutturalismo all'interno di di contesti reali e facendo entrare diciamo questi questi codici all'interno dei corpi la caratteristica sua è proprio questa qua quindi quando si dice che la nozione cardina è quella di habitus sì perché quella nozione lì permette di fare entrare diciamo la struttura nel singolo individuo e come riesce a pensare questo questa incorporazione del codice è attraverso i momenti centrali che sono quelli dell'educazione quindi famiglia e scuola per questo l'elemento la sociologia dell'educazione è centrale per Bourdieu perché è il momento è il luogo proprio fisico in cui i codici sociali entrano nell'individuo e tra virgolette lo determinano ora alcuni criticano questa nozione è insostenibile questa nozione piatta di determinismo cioè non è che il il singolo è del tutto agito da questi codici che ha incamerato però diciamo sono la la griglia che a partire dalla quale il singolo deve orientarsi nella nella vita e hanno un ruolo diciamo predominante però l'elemento fondamentale è quello è quello lì strutturalismo incarnato possiamo dire una cosa del genere non arriva mai come dal punto di vista del del punto di osservazione all'etnografia nelle opere tarde all'inizio sì cioè se si va a vedere quelle opere lì in il periodo algerino c'è questo discorso di osservazione etnografica molto forte come è fatta la casa in Algeria dove stanno gli uomini dove stanno le donne questo elemento qua è fortissimo analisi la crona è ineggibile o sa pure ma risolvere in casi quotidiani per cui il strutturalismo è un mito cioè non è una 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 sezione della storia così sì sì diciamo che di sicuro da Burdio non c'è mai stata una biura rispetto allo strutturalismo la nozione di campo che è la sua è come mettere come adattare la nozione estratta di struttura a determinati pezzi della società lo ha declinato a modo suo arricchendolo rendendolo tra virgolette più realistico ecco ma è una un'eredità fortissima nel caso suo che porta poi per stare a deserto alla tendenza a mangiarsi l'evento cioè hai messo in piedi una macchina teorica talmente talmente forte che diventa una macchina celibe cioè che non ha bisogno di essere nutrita da elementi empirici questa è una versione critica mia insomma però per mostrare dove può andare insomma va un po' in quella direzione lì adesso che rapporti ci sono paduglio e fan spallone rispetto non saprei nel senso che nella eh sì però il rapporto con Sartre era un rapporto e il suo ma il suo obiettivo polemico quando dicevo contro la filosofia in quanto sapere edulcorante in quanto sapere che era questa idea qua era l'esistenzialismo quindi ce l'ha sia dal punto di vista teorico insomma poi ce l'ha anche dal punto di vista intellettuale come modalità di eh di spendersi diciamo nella nella società bah no direi che è un qualcosa di fondamentale la categoria di dominio non è un in Bordeaux questo emerga mai come asimmetria strutturale tra il dominante e il dominato cioè il tema sono campi come dire incomunicabili per tanto beh c'è il discorso della violenza simbolica che è molto forte in Bordeaux però allora dal punto di vista filologico io non saprei eh dirti cioè è una cosa che andrò a cercarmi dopo tieni presente che appunto l'accento l'avevamo messo su Desertot perché e su quest'opera perché è l'opera che conosco ovviamente bene avendo la tradotta sugli altri due ho dei buchi ci parla dell'Algeria così è venuto questo pensiero lavoro che ho detto magari anche collegamento con ci sono i colleghi con il posto io sono andata a prendere il biblioteca il libro sull'Algeria che è uscito hanno pubblicato la raccolta delle fotografie che ha fatto un portiere in Algeria e dice c'è chi è tutta l'introduzione sull'intedentità e ci sono anche riferimenti appunto a una polemica con Fanon in realtà sì lo conosceva ovviamente però non non condivideva questa idea che dai contadini potesse che fosse un soggetto rivoluzionario è certo cioè una adesso lo chiameremmo ma già nel suo termine va bene probabilmente tirare fuori la categoria di populismo è Bordiù su questa cosa qua è per questo che dicevo che tirare fuori da lì le basi per dei movimenti di emancipazione è è sempre difficile perché Puglia funziona molto meglio dal in chiave critica di mascheramento di ideologia della società liberale ma come base per movimenti di emancipazione è molto difficile e beh anche la polemica con c'è con socialismo barbari cioè sull'Algeria aveva cioè vedeva del tutto in realistica una un movimento rivoluzionario nel senso immaginato in alcuni saggi di socialismo barbari quindi sì quindi non mi sorprende però devo essere sincero non conoscevo nel dettaglio ma tra loro non hanno i primati di Weber come? di Max Weber eh sì cioè i grandi della sociologia c'è Durkheim molto presente Weber sì mi ha impressionato la cosa che ha detto Poggio sulla sulla tecnostruttura che si adatta sì diciamo che la versione aggiornata della gabbia d'acciaio appunto di aggiornata questa si adatta proprio l'idea della tecnostruttura e chi era che diceva adesso di questi che abbiamo appena visto che addirittura le rivolte le insurrezioni aiutano aiutano il capitalismo ad aggiustarsi chi era che lo diceva? non lo so penso più di uno tutto il pensiero tradizionalista reazionario è basato sotto questa tesi che secondo me non va né sottovalutato né demonizzato non so entriamo in altri altri mondi ancora per cui c'è una coessenzialità tra queste forme di rivolte di rivoluzione che vogliono accentuare la modernizzazione e la tecnostruttura che non aspetta altro che di essere rinnovata grazie a questa creatività però c'è una negatività totale non è più di modo più leggero no dando appuntamento dando appuntamento ah ecco con un autore corroborante secondo me che è uno dei delle poche figure del 68 che ha partecipato che ha vissuto il 68 che va da pena tornare a conoscere alex langer l'undici giugno lunedì 11 con registratore edi rabbini che è stato un suo amico e federico falloppe che invece è uno studioso sta in inghilterra e sta studiando proprio langer fanno molti giugno quindi saranno complementari bene grazie grazie a voi grazie grazie